Ciao, stasera cari dilaniati, a buon intendito a poche parole, vi presento il mio ultimo progetto che è un appendichiavi da muro, basato chiaramente sulla prima copertina di Dilan Dog, quindi è un omaggio al primo numero di Dilan Dog, è tutto fatto a mano, come sapete a parte la staturina che sono quelle, non mi ricordo chi comunque usciva in Edicora, Dilan Dog e altri sempre eroi bonelli, e niente, ho iniziato con il numero uno, però spero anche poi di fare altre copertine perché magari non tutti lo sanno, ma sopra di me c'è tutta la collezione completa di Dilan, che amo tantissimo, e quindi mi è stato commissionato questo lavoro e sono stata tanto contenta vista la mia enorme passione, vi aspetto nei commenti per sapere se volete vedere qualche altra copertina di Dilan, io ne ho molte preferite, cioè molte che mi piacciono quindi non so scegliere la mia preferita, ciao!